Anna, con chi parliamo adesso? Guarda, ti passo immediatamente la dirigente che è qui con me, Raffaella Tammeo, la ex salvatrice che da quest'anno è dirigente, primo dirigente dell'Orodica. Benissimo, Raffaella credo di aver capito, no? Esattamente. Sì, allora Raffaella, quest'anno certamente è un anno importante per la vostra squadra perché avete degli obiettivi importanti e certamente puntate anche a vincere il campionato. Quali sono state le strategie per poter vincere questo campionato, soprattutto anche a livello di campagna acquisti? Allora, a livello di campagna acquisti abbiamo cercato di, diciamo, ripondare un pochettino la parte giovane di questa squadra. Dobbiamo di puntare soprattutto sulle ragazze giovani, anche con meno esperienza, però mi sicuro la fiducia è della nostra parte. Senti, le prossime gare certamente saranno determinanti per lo sviluppo del campionato. Quale squadra temete di più? Quale squadra temiamo di più? Devo dire la verità, la squadra è il sub-Tirol, però ecco, ogni partita è storia a sé, quindi noi cercheremo di fare più punti possibili e ingranare. Bene, adesso con chi ci fate parlare?